Era un'ottima studentessa, una ragazza attiva, impegnata nella scuola e con tante passioni, tra cui in particolare la musica, il suo tutto, scriveva sui social, e i suoi strumenti, il pianoforte, il sax. Così si può descrivere Eleonora Caglietti Buonamici, 15 anni, deceduta nella mattinata nella sua abitazione di Casa Bianca, frazione di Ponte Bugianese. Eleonora frequentava l'ITC Marchi di Pesce ed era stata presidente del Consiglio Comunale dei Ragazzi della Scuola Media Don Milani nel 2011-2012. L'amore per la musica invece lo esprimeva suonando nella filarmonica Nucci di Ponte Bugianese. La famiglia è molto conosciuta in paese, il padre Giovanni lavora all'azienda Giannino di Alto Passo, la madre Tiziana è insegnante alla scuola elementare di Ponte Bugianese. Aveva un fratello, Andrea, e una sorella, Francesca. Sembra sia stata proprio Francesca a trovare la sorella priva di sensi nel bagno di casa e a chiamare subito i soccorsi. Ad intervenire è stata un'ambulanza della Croce Oro di Ponte con il medico a bordo, ma senza alcun risultato. Gli accertamenti sono stati fatti dai carabinieri e gli inquirenti stanno valutando l'ipotesi di effettuare l'autopsia per accertare i motivi del decesso.